1 2 3 aspettiamo l'immaginetta facciamo un brevissimo video ok allora provando 1 2 3 aspettiamo l'immaginetta facciamo ok un brevissimo allora salve cari amici brevissimo video per annunciarvi che c'è un traslato del canale di youtube diciamo che il video è un po proprio diciamo un po troppo incisivo però diciamo che non è che chiuderà il canale di youtube almeno se non ce lo chiudono o verrà completamente spostato più più altro sarà affiancato ok dal dal canale nuovo telegram che l'ho aperto poche ore fa che lo trovate sotto il presente video e sotto tutti quanti gli altri video che seguiranno quindi se tu apri il canale principale ti troverai con diciamo l'home page ok già se apri questo video qua ti comparirà il link oppure se vai su live apri questo video qua oltre quello che stai vedendo sotto c'è scritto nuovo canale telegram tra l'altro devo un pochino aggiornare il titolo vabbè e poi c'è il link clicchi sul link ti compare questa diciamo schermata c'è scritto apri link o annulla fa un po come te pare l'uno vale l'altro poi qui sotto c'è questa voce qui sotto stanta quella in blu ci clicchi e ti compare appunto la pagina nuova ok interessante notare che questo questo video che io lo vedo ma voi non lo vedete non capisco perché non me lo fa vedere è un video che per esempio youtube non mi fa non mi fa caricare cioè me lo fa caricare ma poi me lo chiude me lo toglie la prima volta te lo tolgono e la seconda volta ti fanno la segnalazione poi ti chiudono il canale quindi io questo video qui lo vedo nel mio diciamo nel mio canale principale sempre di telegram questo è quello che tutti quanti vedete ma diciamo che ora qui non non lo fa vedere sia se vado a cliccare non so per qual motivo non non me lo fa vedere nessuno mi ha detto che mi è stato bloccato quindi non so come fare sono nuovo in questa piattaforma ok poi qui avete insomma altri video ok con sotto il video troverete sempre il commento ok 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 interessante notare anche quest'altro video qualche adesso non voglio commentare poi farò un video dedicato alcuni video li pubblicherò direttamente li caricherò direttamente qui nella piattaforma di telegram perché youtube non me lo fa più fare non ce lo fa più fare no perché youtube sia cattivo ma semplicemente perché youtube è stato costretto ad agire in questa maniera e quindi è costretto mentre invece telegram ancora queste imposizioni non le ha ricevute e quindi abbiamo più libertà ok e le notizie che voi riceverete nel presente canale sono notizie molto uniche che neanche tutti i mass media almeno quelli italiani posseggono perché alcune di queste alcune verranno direttamente da israele e direttamente sia dal governo che dall'intelligence israeliana ebrea e eccetera 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 questo perché abbiamo non degli allacci direttamente con il governo o l'intelligence ma con altre persone e canali che si hanno degli allacci diretti che si trovano proprio nel loco quindi e avrete delle notizie di nicchia a parte a parte questa che l'ho ricevuta seduto quasi seduta stante quando appunto il il signor a san bitmez ha fatto la fine di chavez dopo aver maledetto israele gli è preso un infarto insomma queste sono abbastanza comuni ma ci ci sono alcuni video che proprio sono proprio di nicchia e quindi seguendo questo canale avrete appunto accesso a delle informazioni che in un primo momento non troverete in nessuna parte ok poi col tempo si andranno a propagare ma qui alcune informazioni poche saranno proprio di nicchia quindi vi invito vi invitiamo a iscrivervi a questo canale che ovviamente voi potete fare quello che volete potete anche scaricare non potete commentare perché non ho aperto i commenti perché sennò diventerei matto ok a stare appresso a tutti è già tanto che tengo aperta la mail che volevo chiudere la mail ma non mi è stato giustamente non mi è stato permesso giustamente dice se chiudi la mail hai torto non lo devi fare caso mai li fai aspettare un anno ma non devi chiudere la mail punto e vabbè io nonostante il torto lo volevo fare però giustamente non è corretto perché perché non ho siete tanti sinceramente insomma per vabbè quindi non ho aperto i commenti e e eccetera 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 insomma questo è il canale io ve lo volevo presentare quindi iscrivetevi al canale per essere aggiornati su quello che succede soprattutto nel medio oriente e tutto quello che succederà anche a livello mondiale che possa essere di interesse globale soprattutto per quanto riguardano il discorso bellico certamente però daremo spazio anche ad altre informazioni per esempio informazioni di tipo religioso che vadano a coinvolgere il mondo intero saranno presi in considerazione oppure di tipo sanitario oppure agricoltura tecnologia cose che ci interessano in primis e che veramente giocheranno un ruolo importante preponderante a livello mondiale saranno prese in considerazione bene potrei stare qui ore a parlare ma voglio fare questo video solamente per presentare questo canale ripeto già sotto a questo video trovate il link io vi invito a iscrivervi e soprattutto vi invito a pubblicizzare questo canale questo canale si chiama notizie medio oriente mondo alessio evangelisti bene mi raccomando condividete questo canale pubblicizzatelo invitate le persone anche che non sono credenti e quant'altro e a visionare il presente canale a iscriversi a questo canale e così come si dice come scritto chi avrà dato un solo bicchiere d'acqua a qualcuno gli sarà messo in conto di giustizia lo dico con parole mie bene questo è molto di più che dare un semplice bicchiere d'acqua acqua di questo mondo benissimo bene e ci devo mettere anche insomma qui il link del canale di youtube e non solo piano piano mi organizzerò ripeto l'ho aperto poche ore fa dio vi benedica con voi come sempre alessio evangelisti grazie per la visione am israel hai shalom baruch hashem maranata lo rendo pubblico e vi saluto